Per l'aeroporto Riviera del Corallo sarà una settimana cruciale, decisiva per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale aerea da e per Alghero con gli aeroporti di Roma e Milano. La prima scadenza della procedura negoziata in cui le compagnie si sarebbero dovute iscrivere alla piattaforma telematica Sardegna Cat era prevista per oggi alle 13. Ad oggi ad essere interessate a questa formula sono due le compagnie aeree, AeroItalia e ITER-WISE. A scadenza dall'iscrizione avranno poi sette giorni per presentare le offerte e il giorno seguente, 14 febbraio, dovranno confermare un'eventuale accettazione senza compensazioni ed esclusiva. Dopo le osservazioni negative da parte dell'Unione Europea, la Regione decide di proseguire confermando la legittimità della procedura negoziata, avanzando così con l'ITER della gara. Intanto, entro ottobre 2023 saranno aggiudicati nuovi servizi, a seguito di una nuova gara europea per i collegamenti aerei di Alghero verso Roma e Milano. Questa soluzione, a detta dell'assessore regionale ai trasporti Antonio Moro, è stata adottata per garantire i voli senza interruzione fino all'inizio della prossima programmazione invernale. Resta viva nel frattempo la preoccupazione da parte dei sindacati per una situazione non ancora definita.